Amici di Milan.soccer ben ritrovati da me e dalla coda della direttrice un carissimo saluto, un saluto un po' triste ma semplicemente perché c'eravamo abituati a questo sabato rosso-nero e invece siamo così orfani di una partita che si sarebbe dovuta giocare, che si sarebbe potuta giocare tranquillamente, ovviamente non dico a Bologna, mi sono arrivati dei messaggi da parte vostra stanotte che c'era davvero il diluvio, per cui no e nessuno mette in discussione questo, soprattutto chi come me abita in Emilia-Romagna, nessuno mette in discussione le tragedie, ci mancherebbe altro, sarei solamente un imbecille come tutti quelli che lo fanno, mi interessa soprattutto capire, visto e considerato che, beh comunque adesso l'affrontiamo la questione, vi chiedo sempre l'iscrizione al canale, che per noi è fondamentale, è il like al video, avete visto vicino al like, al pollice, c'è un cuoricino con l'euro, qualche spicciolo per mantenere la coda della direttrice, ecco facciamo una petizione, si è arrabbiata, beh va bene, facciamo una petizione, calmiamo la direttrice, sembra il serpente a sonagli, va bene, detto questo, come vi stavo dicendo, si sarebbe dovuta, si sarebbe potuta giocare, tanto che il Milan aveva, diciamo così, organizzato ben quattro trasferte diverse in tutte le città d'Italia, aveva organizzato con alberghi, con campi di allenamento, ma stiamo proprio al ridicolo e allora a questo punto la mia è una domanda legittima, una domanda che comunque ci riporta un po' indietro non troppo nel tempo e mi chiedo al signor De Laurentiis se è ancora convinto che il sistema calcio ce l'abbia con lui, con il Napoli, bla 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 bla, perché a questo punto mi sembra chiaro che il campionato sia falsato, su questo non c'è alcun dubbio e nessuno mi convincerà del contrario, sia un campionato in cui sostanzialmente il Napoli ha il suo gran bel vantaggio e c'è un regolamento, lo rispettiamo, ma non è quello. Ieri girava tra l'altro il video di qualcuno che è stato a Bologna, sono andato anche io a vedere, ho ritenuto opportuno non filmare perché comunque non mi interessa fare una battaglia con Bologna, non è Bologna il problema, sì è vero c'è il Motor Show, ci sono tante altre, insomma non l'hanno voluta giocare, però con il beneplacito della federazione e quindi ancora Gravina, ancora tutti quelli che siedono nei posti di potere, dove comunque prendiamo un insegnamento da questo Bologna-Mila che non si è giocato, l'insegnamento è noi non contiamo niente, quindi caro Cardinale un'altra sconfitta da mettere sulla sua agendina, ma sicuramente a lei non interessa perché contare nei posti che contano significa parlare di calcio e non di business, quanto mi conviene in termini finanziari ed economici sedere, però non è nemmeno lungimirante, quindi vuol dire che andrà via breve, speriamo, e cioè a lungo termine avere qualcuno che conta nei posti che conta può essere vantaggioso, no? Ecco, in questi termini abbiamo un Napoli che non ha le coppe, abbiamo un Napoli che si prende partite su partite con distanziamenti temporali eclatanti, cioè gioca contro avversarie dirette concorrenti che non possono schierare giocatori, se ora il buon Conte si lamenta direi che adesso avete proprio la patente di chi alla fine semmai dovesse vincere lo scudetto sarà uno scudetto di cartone, quindi potreste fare una finale di Supercoppa Italiana tra cartonati voi e gli altri, ecco in questo senso mi stavo rileggendo, mi stavo rileggendo, poi tra l'altro ho letto giornali stamattina Tutto Sport, la Gazzetta, Corriere dello Sport, Milan Furioso, una furia del diavolo, stupidaggini, stupidaggini, cosa ci aspettavamo quando siamo lì con un Presidente che si addormenta tra il primo e il secondo tempo andando a vedere il Milan o quando siamo ormai in evidente surplus rispetto agli altri in tutti i contesti quali la Lega Calcio, la Federazione Italiana Gioco Calcio, la UEFA, la FIFA, non abbiamo, siamo riusciti a distruggere quello che avevamo creato in tanti anni e questo proprietario, questa proprietà, questa dirigenza è riuscita in tutto e per tutto, non parla nessuno, adesso, ehi, sai chi faceva ehi, tu che sei tanto agitata, lo faceva Fonsi, mentre noi eravamo lì ad aspettare la notizia e eravamo lì ad aspettare, a certificare che non contiamo più niente, questo si vestiva da Fonsi e faceva i selfie e i post su Instagram, parlo di Ibrahimovic, siamo ormai al circo, altro che circo Inter, questo è Circo Milan, cioè un luogo dove veramente, io non ho mai visto una squadra organizzata così male, mai, ma nemmeno in serie C, in serie D, mai, sono più seri, c'è il direttore sportivo, c'è l'allenatore, c'è il presidente, c'è la proprietà, noi riusciamo davvero a stupirmi, cioè sono riusciti a stupirmi e non poco, comunque la questione è posta in questi termini, quando si recupererà? Si recupererà probabilmente a febbraio, mi fa ridere anche aver visto il video di Scaroni, titolo, lo sfogo di Scaroni, lui passa quasi indifferente dinanzi a gente, giornalisti che lo aspettano, forse sotto casa sarà andato a comprare un gratto e vinci, così magari riusciamo a prendere qualche giocatore e dice eh sì, non si gioca, ufficiale, non si gioca, incomprensibile, non si gioca, fine, questa è la reazione, no? Però stavo dicendo, stavo dicendo, quando si gioca, si giocherà, probabilmente a questo punto si gioca a febbraio, si giocherà a febbraio perché poi c'è la Supercoppa italiana a gennaio, insomma, resteremo con, tra l'altro andando a giocare la Supercoppa italiana, quando torneremo dopo la metà di gennaio avremo due partite in meno rispetto ad altri, quindi giocheremo un campionato a parte alla fine, vabbè, staremo a vedere quello che succede. Allora, signor De Laurenti, scontento? Va bene così? Ora è soddisfatto? Non se la prende più con Rocchi e altri, non è più tutti contro il Napoli, giusto? È contento? Cos'è? Non fa dichiarazioni oggi, nessuna dichiarazione. Cosa dichiarerà? Che Terracciano è meglio di Teo Hernandez? Che quindi è uno scandalo al contrario? Cos'è che si inventerà adesso? Che il Reinders è una umile riserva del Milan? Che anche voi avete giocatori fuori? Cos'è che vi inventate adesso pur di, come dire, pulirvi l'anima? Cos'è che vi inventate? Una cosa scandalosa quella che è successa. È successa una cosa scandalosa e per fortuna, sottolineo per fortuna, plurale, che ci siamo noi youtuber che per lo meno ve lo diciamo in faccia. Perché se aspettiamo i giornali che sono di propaganda, se aspettiamo presidenti o proprietari a cui non frega assolutamente nulla, almeno alziamo la voce noi. Contiamo 0,1. 0,00001. Intanto ne siamo tanti, non è che siamo solo noi. Per cui l'opinione pubblica che già non servivamo noi, però almeno noi diamo una cassa di risonanza. Va bene, salutiamo il mister, no come si chiama, il presidente De Laurentiis, il Piangina del Sud, che finalmente ce l'ha fatta ad ottenere i favori della categoria. È tutto, bye bye.